Buongiorno ragazzi, oggi voglio fare la ginnastica per i piedi e le mani, soprattutto le dita, ok? Le parti del corpo che si usa pochissimo e invece invecchiando quelle che ci servono di più utilizziamo pochissima ginnastica, io invece nei miei corsi utilizzo tantissimo, ok? Allora iniziamo con le mani, andiamo prima a stringere forte il pugno e allarghiamo molto le dita delle mani stringiamo forte e allarghiamo molto, stringiamo, potete essere seduti sul divano, sulla sedia, dove volete e allargate, stringiamo forte e allarghiamo, intrecciamo e schiacciamo forte e poi allarghiamo staccando schiacciamo forte e allarghiamo, schiacciamo forte e allarghiamo, chiudiamo il pugno uno gira, due gira, tre, quattro, cambia, uno, due, tre, quattro, intrecciamo, spingiamo avanti, stese tutte le dieci appoggiamo sopra il petto, spingiamo forte e appoggiamo, spingiamo forte e appoggiamo appoggiamo le mani, allarghiamo tutte le dita delle mani, cambiamo i polsi, piano allargate le dita delle mani e ancora, appoggiate, allargando molto, spingete e cambiate e spingete, non esagerate ancora, allargate molto e poi spingete e ultima, allargate molto e spingete spingete, chiudi le dita delle mani, allarga, due, allarga, tre, allarga, quattro, gira, vedi, chiudi, stringi il pugno, i polsi, i polsi e allarga, due, chiudi, spingi, allarga, tre, chiudi, spingi, allarga, quattro, chiudi, spingi, allarga, le dita e i piedi, ballerina allunga, martello su, ballerina, potete anche da seduti e martello, fare questo movimento dei piedi ballerina e martello e ballerina martello, piego le gambe e ora la mano destra prende le dita proprio dei piedi e le tira su tutte cinque e poi le abbassa schiacciando e ancora tira e abbassa schiacciando, tira forte, abbassa schiacciando, tira forte tutte le cinque, abbassa schiacciando, ok, rilasso, vado a lato, piego comodo, prendo, tiro tutte le cinque dita su e poi le schiaccio giù e ancora tiro e poi schiaccio forte, tiro forte e schiaccio forte, due gambe stese, martello, le dita dei piedi, stringi, allarga, due, allarga, tre, allarga, quattro, allarga, ora ragazzi, piente destro la mano sinistra, dobbiamo mettere le dita, vedete, delle mani tra le dita dei piedi, infilare fino al fondo, tutte, 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 quattro, ok, perché il pollice è fuori, incastrato, stringo forte il pugno sinistro e allargo gli spazi tra le dita del piede destro, stringo forte, allargo, stringo, allargo, stringo, allargo, tolgo, stop, dall'altra parte prepariamo il piede sinistro, le dita, ok, vai, indice, ok, medio, annulare e mignolo, fino al fondo, schiaccio proprio fino al fondo, mi aiuto con l'altra mano, sì, sì, forte, 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 bene, stringo la mano destra, uno, e allargo, stringo due, e allargo, lo so che si sente il disagio, stringo tre, anche io lo sento, e allargo, stringo quattro, e allargo, relax completamente, ecco ragazzi, semplicissimi esercizi da praticare tutti i giorni, mi raccomando, non lasciamo le mani ai piedi, e senza questi non possiamo assolutamente vivere, un bacione grande e alla prossima!